Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video ti presenteremo le caratteristiche principali dell'aspiratore professionale a novi e reverberi 4300p e ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. L'aspiratore professionale a novi e reverberi 4300p e è un prodotto resistente e maneggevole, progettato per aspirare efficacemente grandi quantità di sporco solido, grossolano e liquido. Dotato di una potenza di 2400 Watt, una depressione di 22,1 kPa e una capacità di aspirazione di 94,5 litri al secondo, garantisce prestazioni elevate anche nelle condizioni più difficili. Il motore B-Stadio, composto da due motori indipendenti, può essere attivato manualmente tramite gli interruttori posti sulla parte superiore del coperchio, consentendo all'operatore di scegliere tra uno o due motori in base all'intensità dello sporco. Il fusto di raccolta, realizzato in materiale plastico robusto e resistente, ha una capacità di 77 litri e le cerniere di aggancio-sgancio rapido facilitano la rimozione del coperchio e lo svuotamento del bidone. Il manico in acciaio inox con impugnatura ergonomica e le quattro ruote, di cui due combattistrada in gomma e due pivotanti, garantiscono un'ottima maneggevolezza e facilità di spostamento del dispositivo. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Visita il sito AgriEuro e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.